Una passeggiata primaverile sulla spiaggia fanese di Sassonia accompagnata dalla sorpresa in attesa dell'impatto con una inquietante moria di piccoli pesci sospinti dalle onde sulla battigia. E quanto segnalato da una telespettatrice di Rossini TV che con video amatoriali sul proprio cellulare ha documentato ieri pomeriggio questa anomalia. Centinaia di alici senza vita sul bagnasciuga in corrispondenza del lungomare fanese all'altezza del ristorante al mare. Sospinta dalle onde, spunta anche una stella marina. Un fenomeno che potrebbe essere riconducibile a sbalzo oscillazioni meteorologiche dell'ultimo periodo ma che presumibilmente andrà verificato con campionamenti delle acque supplettivi a quelli già effettuati in questo mese di aprile. Controlli dell'ARPAM che hanno dato il via libero ufficiale alla stagione balneare dal 1 maggio in tutte le acque marchigiane certificando il 96% di balneabilità dell'intero litorale regionale, percentuale che addirittura al 100% nelle acque della provincia di Pesaro Urbino comprese Fragabice Mare e Marotta.